Non guardarmi il sederino da sotto, per favore Guardalo là come è insinuoso Non fare lo stalker Benvenuti amici, io sono Salpipo Oggi torniamo su SmileX2 L'altra volta abbiamo iniziato questo nuovo capitolo Che si tratta appunto dell'aggiornamento nuovo Che hanno fatto su SmileX2 Abbiamo recuperato la scheda d'accesso Abbiamo preso l'ascensore e siamo arrivati esattamente qua Dov'è qua di preciso? Non si sa Però ci siamo arrivati Quindi oggi cerchiamo di finirlo Sto capitolo Quindi mi raccomando supportate sempre serie e canale Lasciando like, mi raccomando E seguitevi anche su TikTok ed Instagram Vi lascio sempre il banner qui sopra Per ricordarvi come trovarmi Allora lì c'è un gambero vagante Nel senso c'è qualcuno Che ha qualcosa sulla schiena Sembra un mega contenitore pieno di acqua Vabbè dai, diamo un'occhiata In giro, cos'è? Raccogli, ho trovato una bottiglietta Ho trovato una bottiglietta Adesso gliela spacca in faccia E poi vediamo se mi deve ammazzare Chiunque esso sia Dov'è? Eccolo Sta scendendo Il ramuscello Non ci facciamo vedere Allora Vabbè diamo un'occhiata No, sta andando di là lui Vabbè saliamo Ho capito Saliamo, saliamo Fatemi capire quello che c'è da fare Allora Qui C'è un pannello Stop the big centrifuge E stoppala Si è stoppata Benissimo Ma il ramuscelotto arriva qua Penso di sì E infatti Infatti mi sta seguendo Ma che cosa abbiamo fatto di preciso? Scusatemi Abbiamo stoppato sto coso Per farci Intanto diamo un'occhiata qua Rapida rapida Fatemi capire Quello che c'è da fare Perché Aspetta qua c'è un ascensore Quello ancora mi segue No Qua ho visto alzarsi qualcosa E infatti C'è qualcosa che si alza qua Lo posso prendere? È un ascensore Mi butto Come mi insinuo lì sotto io Non ci passo Sono troppo cicciotte Aspetta Aspetta Io stavo cercando di prendere l'ascensore Facci di capra Aspetta Dammi tregua Dammi tregua E fortunatamente Lo seminiamo abbastanza in fretta Fortunatamente almeno questo Allora Se io mi accovaccio qua Come una marmotta Riesco a passare Ed insinuarmi qua Però ovviamente Quando l'ascensore è lì Giusto Aspetta In continuazione Sale sempre Io dove vado? Dove vado io? Via di qua Dove me ne sto andando? Me ne sono uscito fuori dalla mappa Aspetta Ho problemi tecnici qua Però ce l'abbiamo fatta Non so come Ma ce l'abbiamo fatta Adesso passiamo di qua Spero che ste piattaforme Rimangano così Ok Premiamo Attiva il circuito Perfetto Quindi cos'è che ho attivato? Scusate Cos'è che ho attivato? Attiva il circuito Forse queste pedane qua Si muovevano prima queste Eh Adesso non si muovono più No adesso si muove Vabbè Non lo so Farà qualcosa sicuro Quindi che faccio? Me ne riscendo con l'ascensore Ah Sta scendendo nuovamente Aspettiamo Via Che mi butto Ok Però mi sono buttato nel momento sbagliato Perché c'era un oscialotto qui che mi segue Adesso come faccio ad uscire da qua? Devo risalire Aspettate un attimo Se ascensore l'avete fatti sbagliati Mi sta schiacciando Se ascensore sono fatti Ah Attiva il circuito nel senso che adesso va giù E io come faccio ad uscire da qua adesso? C'è un modo per Qui? Magari mi insinua da questa parte Sì Grande così Grande così Vabbè E quindi Dobbiamo cercare di salire lì Vediamo Perché il ramosciolotto l'ho visto salire Eccolo là E mi ha visto Ma tanto chi se ne frega Tanto lo seminiamo abbastanza in fretta Lo seminiamo abbastanza facilmente Me ne salgo da qua E me ne salgo da qua Forse Sali sali Chiunque tu sia sali Mi sta seguendo no? Ok Cerchiamo di passare da qua Non fare la finta tu Che poi cado e c'è quello che mi ammazza Veloce Infatti Sapete che devo cadere No no tranquillo 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 che non è successo niente Dov'è? Portati il razzo dietro Vai io devo passare da qua Aspetta dobbiamo cercare di Coordinarci un po' con ste pedane E via E questa non esce Questa non esce Che si fa? Non posso manco saltare Esci brutta pedana malefica Esci? Non esce Perché non esce sta pedana? Non è che Via Ok Non so come Che è? Il processo di miscelazione dell'antidoto Richiede tre parti E una le abbiamo data Antidoto Parte consegnata Una di tre Dobbiamo trovare le altre bottigliette Che bello Dove le trovo? Aspetta lì c'è qualcosa che brilla Macchina antidoto Ok Qua Ah c'è un'altra bottiglietta qua Attenzione a lui però Bottiglietta qua Via Via E devo ripassare da qui adesso Che Che rottura Ste pedane sono scordinate Come faccio a passare senza problemi Eh E quella è attiva Quella è attiva Via Che quella è attiva Grande così Macchina antidoto Perfetto L'ultima Che mi pare di aver visto lì Quindi aspettiamo il ramoscello Eccolo Quanto sei faccia di capra Volei fregarmi Che io mi buttavo E tu mi ammazzavi Brutto essere malvagio Ok Vediamo se effettivamente Era una bottiglia Sì Che è una bottiglia Perfetto E allora Damos Risaliamo Non ti accovacciare Come il ninja Vai Ok E dobbiamo ripassare da qua No No Sono più veloci Via Che ce la faccio No Ma non ce la faccio Manco per niente Saliamo Saliamo Attenzione 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 Vai pedane Scoordinate Come non so che Quella se n'è rientrata Guarda là Eh ma io Via che corro Come non so che Ce l'abbiamo fatta Metti qua Ok Fatto E adesso Che mi dai Macchina antidoto Eh antidoto messi 3 di 3 Quindi Quindi che ho fatto Di preciso Si è sbloccato qualcosa Qua Il processo di miscelazione Ah ok Dove attivare qua Il processo di miscelazione Cos'è E' uscita questa Ora devi far cadere Questo antidoto Nel grande serbatoio D'acqua Al primo piano Quello Quello sarebbe un serbatoio A me sembra una palla Se volo No come in trade Niente Via che me ne vado Meno male che non sale Meno male che non sale Quindi devo andare di là Giusto Quindi perché sono salito da qua Saliamo di là Non mi vedere Che io salgo le scale Non guardarmi il sederino Da sotto Per favore Guardalo là Come insinuoso Non fare lo stalker Vabbè io devo passare da qua Ah qua si è attivato Mezzo mondo Via Corri la moscelotto Corri che ci spacchiamo Le zampe lì sotto Si è arrivato Fatto Attiva Congratulation Questo non l'avete fatto Vabbè abbiamo purificato l'acqua Abbiamo riparato i tubi Eh no Adesso la tua base Ha più risorse Però se non mi fate leggere Sto cacchio Che io lo traduco Scusate Già vi prendete la briga Di non tradurre le cose Abbiamo finito Abbiamo finito In meno di 8 minuti Abbiamo finito Allora potevo farlo anche l'altra volta A me sembra che questo livello Era abbastanza lunghetto Da fare in due episodi Invece potevo farlo benissimo L'altra volta Allora qui siamo Praticamente nel primo capitolo Però io volevo vedere una cosa Sempre nel secondo Sempre in Atlantis Perché Non ci siamo fatti Praticamente prendere da nessuno Io volevo vedere Almeno un jump scare Che fai Non te lo vedi Quindi rifacciamo magari La prima sessione Tanto dura meno di 2 minuti Così da farci prendere Al primo ramoscellotto Che spunta lì Allora facciamolo In velocità supersonica Perché tanto già sappiamo Quello che dobbiamo fare E via No no però La sbarra qua Non me la devi abbassare Ok saliamo Anzi no No perché Dobbiamo andare per la porta A prendere Ovviamente la chiave C'è un bug Ho scoperto L'altra volta Sto bug Praticamente Adesso ve lo faccio vedere Non è necessario Rompere queste sbarre qui Io l'altra volta L'ho rotto Perché non sapevo Quello che dovevo fare Ma non è necessario Completamente Perché il piedi porco Si trova qua Ma non è necessario Adesso ve lo faccio rivedere Ve lo faccio rivedere Prendete la chiave Andate a Ad aprire il pannello Che c'è su Veloce Ramoscellotto Veloce Non perdere tempo Che poi la mamma Ti sgrida Che tardi ad andare a cena Via Saliamo Andiamo qui Dal robottino Senza pelle Veloci 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 Attiviamo qua Adesso ci serve il fusibile Per prendere il fusibile Abbiamo bisogno Del piedi porco Di spaccare le assi Ma noi Noi ce ne freghiamo E andiamo dritto di là Perché io ho scoperto Sta cosa altra volta Involontariamente Quindi ci mettiamo qua E giochiamo un po' Con il touch In modo che La visuale cambi un po' Ad un certo punto Poi ci abbassiamo Ecco ancora non è cambiata Aspettate un attimo Dobbiamo farla cambiare Eccola Ci abbassiamo E poi ci insegniamo E prendiamo il fusibile Senza aver rotto Le assi Però prendi il fusibile Teste di capra Senza aver rotto Lì Con il piede di porco Dico è una stupidata Perché rompere lì Ci vogliono due minuti Però dico Se avete fretta Questo è ancora più veloce Andiamo a mettere il fusibile Velocemente pure Perché abbiamo Tutte l'eternità Da dedicare Via Fusibile Lei è sempre qui Che non fa nulla Che cosa fa Sta figura Ancora non lo capite Quindi Andiamo a Disattivare l'acqua Buttiamoci da qua Prendiamo le assi Che si trovano qui E le mettiamo lì L'altra volta Ho fatto un giro assurdo Per mettere queste cose E qua era così semplice Mettiamole qui Adesso attiviamo Il pannellino Se non mi si incastra Però Se non mi si incastra Attiviamo il pannellino Ok Dopodiché Basterà prendere la scheda D'accesso da sto mino Qua E andare all'ascensore dritto E andare nel livello Che abbiamo fatto Praticamente adesso Vediamo Io volevo vedere Il suo jumpscare Mamma mia Quanto sei brutto Quanto sei brutto Facci di capra Va bene ragazzi Aggiornamento Fantà Mi è piaciuto un casino Questo aggiornamento Questo livello Più che altro Mi è piaciuto un casino Quindi fatemi sapere Nei commenti Se volete Che affrontiamo I livelli principali Del gioco Perché Io l'ho provato Una volta Sto gioco Però Non li abbiamo Completati I capitoli Se non sbaglio Era arrivata Alla 2 Al Terminus Però non l'abbiamo Completata Dovremmo completare Sia il Terminus Sia la Rossum Station Sia il Gaia Station Perché ce ne sono Un bel poco Da fare Quindi fatemi sapere Nei commenti Ovviamente Se potete sempre I canali Ascendo like Iscrivetevi al canale Cosa iscritti Attivate la campanella E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi siamo su Neighbors Back from Hell Super colla Nel binocolo E faccia di cape Sono più furbo di te Per tutto il gioco Non rimarrò incollato No